Tutto era il brutto della pasta con besciamella e salame. Abbiamo imparato a fare la besciamella in casa, dobbiamo squattarcela per un po'. Scegli un salume buono, perché se sei tra quelli che dici vabbè ma tanto serve per cucinare. Oh guarda che poi te lo devi mangiare, se usi la roba di merda cucini roba di merda. Taglia il salame a pezzetti piccoli, io ce l'ho messo un quarto d'ora, è una nottura di cazzo ma è da fare. Ti ricorda qualcosa sì? Pasta rigorosamente mixata. Scola la pasta 4 minuti prima del tempo indicato sulla confezione. Pasta nella besciamella. Anche il salame un po' per volta, mescoli, aggiungi finché non lo finisci tutto. Tutto in teglia e con spargicolo del parmigiano. Ed ora in forno. 20 minuti a 180 gradi, se vedi che non ha ancora la crosticina, 200 gradi per altri 5. Pronti! Un pronti con grande entusiasmo perché ha proprio una bella faccia. Ho una fame della madonna. Nedamente buona. Grazie a tutti.